Sì, siamo a tre partite alla fine quindi il tempo stringe e un po' di emergenza ce l'abbiamo come ce l'hanno anche altre squadre quindi forse in questo caso un po' eccessiva vista anche la squalifica di due calciatori però devo dire che questa squadra nelle difficoltà ha sempre risposto presente con chi alle spalle ha voglia e anche qualità per giocare quindi al di là delle scelte che poi il sottoscritto fa e quindi sarà una situazione, un'occasione per dimostrare ancora una volta chi ha giocato meno o chi in questo momento è stato utilizzato poco per poter dare il proprio contributo quindi su questo non abbiamo mai fatto un grosso problema perlomeno il sottoscritto non ha mai fatto un grosso problema sulle assenze perché ci sono occasioni e possibilità di dimostrare e quindi di mettere in campo anche giocatori che hanno qualità diverse forse da chi può mancare però devo dire con la stessa voglia e determinazione che ha contraddistinto questa squadra ma questo non lo so, abbiamo fatto rifinitore oggi vediamo quello che sarà poi domani l'undici base che andranno in campo innanzitutto mi preme sottolineare il fatto di fare un grosso in bocca al lupo augurio a Vincenzo di pronta corrigione per cosa gli è capitato sostanzialmente che sembrava potesse essere uno scontro banale di gioco invece poi è venuto fuori qualcosa di più complesso però siamo contenti di poterlo rivedere tra noi magari nel più breve tempo possibile anche se sappiamo che i tempi non sono brevi però l'augurio mio, dello staff e di tutti quanti è quello di rivederlo al più presto con noi e quindi questo è un dato di fatto poi il resto vediamo quello che sarà abbiamo caratteristiche diverse da poter sfruttare domani sarà una partita importante contro una squadra che dovrà giocando in casa dovrà conquistare obbligatoriamente i punti siccome li dovremmo conquistare anche noi sostanzialmente anche se la classifica è leggermente diversa ma il nostro obiettivo lo sappiamo è importante quindi vediamo quelli che saranno le caratteristiche però al di là delle caratteristiche domani in campo quello che serve è la voglia di affrontare questa partita su un campo difficile contro una squadra che se guardiamo la rosa secondo me è un'ottima squadra per poter stare nell'alta classifica però poi come avviene spesso a volte magari il campionato o le situazioni portano a fare cose diverse quindi dobbiamo stare molto attenti hanno individualità importanti quindi dobbiamo essere pronti e su quel campo dobbiamo stare molto attenti dobbiamo fare la partita non dico perfetta ma secondo me è una partita molto attenta non appena di due settimane fa forse avevamo paventato che questa situazione stesse cambiando nel senso avendo fatto due vittorie esterne consecutive quindi poi la sconfitta di Latina ci ha un po' scombustolato i piani sotto certi aspetti pur come ripeto avendo fatto una buona partita si fa ma mettendo in campo la stessa determinazione o la stessa partecipazione, voglia e situazioni che svolgiamo quando siamo in casa è normale che giocare davanti al proprio pubblico è sempre, come ho detto, l'ho ribadito uno stimolo in più, una responsabilità in più e dentro la nostra casa sicuramente ci sentiamo forse più protetti più convinti di fare le cose non lo so, però questo, come ho detto è una situazione che deve cambiare prima possibile stiamo lavorando anche per questo però a volte magari non sempre ci si riesce ci sono squadre che riescono ad essere più prolifiche fuori casa e quindi ottenere più risultati perché hanno un atteggiamento diverso perché hanno caratteristiche per fare questo tipo di gioco noi in questo momento invece sta capitando l'inverso però devo dire che lavoriamo per questo e ci auguriamo domani di tornare a fare punti fuori non lo so, non lo so perché sotto stanno camminando e si stanno vedendo anche risultati a volte sorprendenti quindi chi prima faceva fatica a fare punti ora Mari ha inanellato una strada positiva e quindi sono nove punti a disposizione credo che chi è a 45 come lo siamo noi quindi il Sorrento credo non può stare tranquilli per poter ambire a qualcosa di importante anzi dovremmo fare secondo me sei punti sicuramente per poter ambire a qualcosa però al di là di questo poi le combinazioni si possono vedere di domenica in domenica però quello che conta è fare punti continuare a fare punti e dare continuità anche in questo miniciclo di tre partite quindi l'obiettivo è quello di fare il massimo come abbiamo sempre detto però poi ci sono anche altre squadre e come è capitato anche venerdì scorso in casa a volte prepari la partita in un certo modo o pensi di poterla fare in un certo modo poi dopo quattro minuti Mari viene fuori tutta l'altra partita e quindi cambiano i piani, cambiano le aspettative però devo dire che dobbiamo farci trovare pronti domani perché andiamo in un campo caldo, in un ambiente caldo in una squadra che ha qualità e che ha bisogno di punti e noi come abbiamo detto, avete detto anche voi per raggiungere un obiettivo non possiamo passare da fare punti a partire da domani ma abbiamo diverse situazioni diverse acciacchi problematiche se non di grosso conto però abbiamo diverse situazioni Sant'Annello ancora non è abile per fare spezzone di partita quindi rientrerà con noi a pieno regime da martedì prossimo dalla ripresa degli allenamenti Tengor anche sicuramente è fuori Silvestro dopo il problemino che ha avuto domenica vera il discorso questa settimana ha lavorato un po' in disparte un po' differenziato quindi non è in perfette condizioni vediamo se portarlo con noi oppure no e poi abbiamo i due squalificati quindi questo è il bollettino è il bollettino in questo momento ufficiale quindi emergenza però come abbiamo detto prima abbiamo soluzioni per poter dimostrare e poter far bene A proposito di queste soluzioni viste tutte queste essenze è possibile anche un cambio di modulo oppure preferite continuare sulla strada che avete tracciato nelle ultime partite? No, noi dobbiamo continuare sulle nostre certezze che ci ha portato a fare anche buoni risultati nel breve periodo e dobbiamo continuare a avere i nostri punti di riferimento quindi poi cambiare una pedina cambiare una posizione in campo o durante la partita queste sono strategie sono situazioni che possono variare però il nostro modo di pensare al di là di un modulo base in questo momento vogliamo andare avanti con la nostra strada quindi al di là dell'avversario al di là di alcune situazioni certo cambiano le caratteristiche magari di chi domani potrebbe andare in campo rispetto a quelle che sono le assenze però devo dire ripeto da caratteristiche a caratteristiche si possono fare partite diverse quindi andiamo alla ricerca di questo e di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche dei nostri giocatori che andranno in campo allora noi siamo in questo momento siamo in una fase tra virgolette transitoria siamo passati dalle montagne russe dal bene al male poi al bene ultimamente a una via intermedia dove abbiamo fatto due sconfitte e potevano essere magari punti importanti per poter consolidare qualcosa di importante per noi dice tanto dice tanto perché raggiungere un obiettivo così in questo momento di playoff dove sembrava irraggiungibile poco tempo fa per noi è un motivo d'orgoglio un motivo di stimolo anzi deve essere come ho già detto e quindi dobbiamo arrivarci in tutti i modi dobbiamo fare il massimo per poterci arrivare non ci aspettavamo sicuramente zero punti in due partite però poi dopo il percorso fatto a volte può portare anche a questo ma noi dobbiamo lavorare per raggiungere questo obiettivo perché credo che Foggia non ci si può accontentare non ci si può accontentare poi di aver fatto una serie di risultati e stare nelle acque tranquille bisogna sempre ambire a qualcosa di importante e in questo momento è qualcosa di importante è il decimo posto raggiungere il prima possibile per poter consolidare i playoff e poi se siamo bravi ci arriveremo di slancio ci arriveremo con un ottimo spirito e poi vedremo quello che succederà però abbiamo l'obbligo come ho detto la voglia e la determinazione di volerci arrivare anche se queste ultime due partite poi a livello numerico di punti di risultati non ci ha detto questo però devo dire la voglia non cambia sicuramente no è normale che quando inizi una stagione non sai mai perlomeno speri o desideri ma non sai mai cosa poi realmente può succedere strada facendo si sono inanellati una serie di circostanze dove ci ha portato da avere un'esaltazione o avere una continuità iniziale di risultati anche di buone prestazioni avere poi un momento di difficoltà poi col cambio e il rientro quindi non ci aspettavamo non mi aspettavo sicuramente un percorso così per come l'abbiamo iniziato anche se con delle difficoltà però l'abbiamo iniziato con grossa positività e grosso stimolo e quindi alla lunga sicuramente non mi aspettavo questo questo percorso però devo dire che poi siamo stati in questo momento bravi a rimetterlo in piedi che non era semplice e questo questo sì di questo sono molto contento siamo molto contenti di questo però non basta non basta perché è ancora tutto tutto aperto e quindi dobbiamo dobbiamo continuare su questo però dire che mi aspettavo questo percorso devo dire di no mi aspettavo sicuramente qualcosa di più continuo anche con qualcosa di più positivo sotto l'aspetto anche classifica sotto l'aspetto anche proprio di percorso però devo dire che poi bisogna adattarsi a quello che poi viene e quando vengono situazioni non positive riadattarsi non è mai semplice questa squadra è stata brava a farlo a tirarsi fuori e quindi però deve continuare su questo percorso sedersi adesso significa una sconfitta a priori e quindi abbiamo la possibilità di continuare a dimostrare e dobbiamo farlo ma allora forse a volte è sempre una scusa o sempre un un alibi il campo sicuramente può cambiare qualcosa per chi come noi si allena in questo periodo costantemente sul nostro campo e gioca sul nostro campo che è talmente diverso da quello di potenza sicuramente può variare qualcosa può variare il primo controllo può variare l'appoggio può variare il rimbalzo questo chiaramente sì non possiamo far finta di nulla però poi è sempre una partita e quindi le dinamiche della partita vanno affrontate vanno risolte quindi non deve cambiarci noi dobbiamo subito riadattarci di certo possono cambiare anche i ritmi delle partite questo sì perché campo sintetico veloce quindi dobbiamo essere bravi in questo subito ad adattarci ma non non ho preferenze sono sincero noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo e quando una squadra poi lo raggiunge di slancio lo raggiunge con la voglia o il desiderio di volerlo fare credo che poi qualsiasi avversario possa essere possa essere affrontato quindi andiamo andiamo la ricerca della posizione andiamo la ricerca di raggiungere l'obiettivo poi quello che sarà sicuramente lo affronteremo lo studieremo ci auguriamo di avere questi problemi nello studiare l'avversario che sarà che sarà per quanto riguarda i playoff però come ho detto passa da domani passa dalle altre due partite quindi ce n'è ancora strada da fare vorrei vorrei fare innanzitutto anche se in chiusura i complimenti alla alla Juve Stabia che che ha fatto un percorso importante non è semplice partire sin dalla prima di campionato e finire l'ultimo di campionato in testa su un campionato in girone difficile come il nostro quindi faccio i complimenti perché hanno meritato hanno meritato questo successo perché poi nell'arco del campionato hanno sempre avuto continuità e quindi è giusto che festeggino in questo momento e complimenti a loro alla programmazione allo staff e a tutti quanti perché se la sono meritato che